E' partito giovedì sera a Villa Borromeo di Pesaro il primo di otto appuntamenti che fino al 2 dicembre vedrà l'Associazione Diabetici di Pesaro, promotrice del ciclo di incontri dal titolo Diabete, ieri, oggi e domani, sfide cure per il benessere della persona. Un capillare approfondimento per comprendere presente e prospettive future di questa patologia che colpisce 90.000 marchigiani. E' un format scientifico che abbiamo messo su insieme per far dialogare i medici insieme ai pazienti su quello che era il diabete, come veniva trattato, diagnosticato in passato, quello che è stata l'evoluzione delle conoscenze e delle terapie oggi, a che punto siamo e le prospettive per il domani. Ci sono tantissimi professionisti che interverranno nelle diversi incontri. Voglio ringraziare tutti di cuore per la disponibilità che hanno dato, la loro generosità e impegno. E ricordiamo che sono tutte iniziative no profit, di beneficenza e siamo tutti volontari. Quindi grazie di cuore veramente a tutti coloro che si sono impegnati e ringrazio anche in particolare i Lions che ci sostengono e sono con noi in questa iniziativa, con il loro service per il diabete. Relatore centrale del primo appuntamento, la direttrice del Dipartimento Diabetologia Asur Marche, Rosa Anna Rabini, che ha concentrato il suo intervento sulla gestione del diabete 1. I diabetici di tipo 1 sono in crescita nella nostra regione, come d'altra parte i diabetici di tipo 2 e attualmente beneficiano di tutta una serie di nuove tecnologie che aiutano a gestire meglio la malattia e a migliorare la qualità della vita. E quindi è importante che i servizi di diabetologia si orientino all'utilizzo di queste nuove tecnologie. I servizi di diabetologia marchigiani possono essere molto attivi anche nella prevenzione, quindi puntare non soltanto sull'assistenza del paziente già con il diabete diagnosticato, ma anche sulla prevenzione del diabete, quindi promozione dell'attività fisica, promozione dei corretti stili di vita. E' questo che appunto cerchiamo di fare anche supportato dalle associazioni dei diabetici e dal supporto anche della regione Marche con i vari progetti che sono in corso sull'attività motoria e sull'attività fisica. Prossimo appuntamento il 29 settembre, sempre a Villa Borromeo, con focus sulla pediatria ospedaliera e territoriale. Noi abbiamo messo in piedi questa struttura perché comunque i piani alti hanno capito l'importanza, c'è anche una legge del 2015 voluta dalla regione per tutelare il malato diabetico. Quello che dice invece la professoressa Rabini è una cosa sul diabete 1 che è ancora più importante in quanto arrivano i bambini, arrivano delle persone e quelli devono convivere mentre il diabete 2 gli si aggravano più complicanze su quello che è la sua salute. Arrivano tante cose, lo vediamo anche con i vaccini, adesso si aspetta il quarto, qualcuno ha già fatto anche il quarto. Perciò noi dobbiamo tutelare un diabetico ma anche il diabetico ci deve aiutare a collaborare perché 90.000 delle Marche è un numero che deve far riflettere sulle nostre città, sulla nostra regione. La politica non può essere assente di fronte a una situazione come questa, tutto qua.